e bentornati cari lettori io sono luca dj queste storie dell'altra vita oggi mi sono impicciato io mi sono impicciatissimo mi sono impicciato è un'emozione emozione sto con lui sto col mini buda qua che ormai ha iniziato si ha iniziato la run di one peace entrato nella ciurma ciao giovanni ciao tonio ben arrivati oggi un arcade caffè coi contro fiocchi perché perché ieri siamo stati al teramo comics e ce ne stanno di cose da dire ce ne stanno di cose da dire oggi noi li diremo ciao mariano ben arrivato ieri abbiamo incontrato un quartiero cannarsi per chi non lo sapesse è uno degli adattatori più chiacchierati di sempre in italia adattatori di anime giapponesi direttore di doppiaggio eccetera sua l'adattamento di tutto quante le opere di miyazaki quindi una gran persona l'abbiamo l'abbiamo incontrato abbiamo assistito a una conferenza con lui c'erano il dottor anti accademico che ho conosciuto in quel caso un dottore veramente un laureato di teramo che ha iniziato a parlare sui social di cinema e lo fa in modo un po non convenzionale l'ho salutato il cantiniere ciao il cantiniere ben arrivato e poi c'era l'ospite d'onore che era a caverna di platone domenico guastaferro abbiamo fatto un'intervista anche esclusiva c'eravamo soltanto noi chiediti che stai a fare che stai a fa finire a sincope abbiamo fatto un'intervista esclusiva a caverna che non vedrete oggi abbiamo fatto però anche un piccolo riassunto di quello che è stato il convegno sugli influencer e se ne sono viste delle belle secondo me ne sentirete delle belle nel video di questo pomeriggio alle 18 e 30 saprete tutto quanto l'intervista invece io penso fra un paio di giorni di montarla e di pubblicarla abbiamo visto anche altre io come faccio a parlare che tu fai così stai fermo sei spostato tutto non te vedi te lo dico io quando lo devi prende abbiamo parlato abbiamo parlato con con degli editori nuovissimi che praticamente sono stati soltanto una volta sul canale ma non ne avevo mai incontrato ma adesso parliamo di tutto questo però prima prima di tutto vi volevo far vedere due cose fresche fresche che mi sono arrivate cioè una non è una è fresca perché non ve l'ho mai fatta vedere che mi sono arrivate in digitale vabbè ragazzi è uscito il color fest proprio oggi con l'orrore delle armi pontrelli e conto pontrelli a disegni e colori conto gabriella conto alla storia una storia che vede dylan durante la prima guerra mondiale la grande guerra una storia che lo vede sul fronte ovviamente inglese contro i tedeschi che avevano invaso il belgio una storia che è disegnata in modo eccelso da pontrelli e colorata in ciao monda ben arrivato in modo eccelso da pontrelli l'ho letta stamattina è perché qui è appena tornata la corrente perché sono stati dei lavori qua nel quartiere però come al solito a me la conto non mi ha fatto emozionare alla fine chi ha vinto hanno vinto gli inglesi non mi ha fatto emozionare nella storia hanno vinto gli inglesi nella storia non nella storia hanno vinto gli inglesi nella storia non mi ha fatto emozionare succede sempre così con le con le storie della conto probabilmente è un problema mio a punto non è non è più un problema suo sul canale telegram alcuni alcuni di voi mi hanno detto che anche loro non si sono emozionati altri invece è piaciuta quindi vuole dire che è una cosa del tutto soggettiva e ci sta però io vi dico una cosa il tasso artistico anche soltanto di pontrelli è così alto che è una cosa da assolutamente da avere è veramente molto molto bello poi poi non vi ho mai parlato di questo di spawn river di gabriele bitossi che mi contattò un bel po di tempo fa ormai ma poi ho perso la mail e quindi l'altro giorno gli ho richiesto di rimandarmi questa bella cosa che mi voleva far leggere e mi sono stupito tantissimo quando ho visto queste tavole sono una serie di racconti sono una serie di racconti ma con delle tavole che sono veramente strane belle tutte quante tutte quante nel loro nel loro mood non vedo l'ora di poterlo di poterlo leggere per parlarvene un po meglio per il momento faccio vedere soltanto queste cose che sono veramente molto molto belle queste queste tavole è così per il digitale abbiamo fatto poi approfondiamo approfondiamo più in là per quanto riguarda per quanto riguarda invece il resto e il resto significa due bei spacchettamenti più una cosettina non ci abbiamo il fumetto che ho preso ad anna che ti sei fatto male a anna per piacere ci porti il fumetto grazie allora partiamo subito dal fumetto di marco che ha preso lui che cosa hai recuperato a questo teramo comics eccolo eccolo ha recuperato il grazie anna mettilo qui ha recuperato shaman king numero 3 di iro yuki takei ne vuoi parlare tu di che parla questo questo manga allora shaman king parla di un sciamano che appunto deve dire diventare lo shaman king o lo shaman frit non so come si dice il re degli sciamani qui cominciano a praticamente ovviamente ovviamente si vede rio dalla spada di legno ecco praticamente viene impossessato di uno spirito e venendo e venendo visto che si è impossessato di uno spirito ovviamente ovviamente che non provava molto provava odio verso amida dura perché tutti provano odio verso è un altro personaggio un altro personaggio di un altro sciamano che è molto forte un altro sciamano è proprio uno spirito che è stato ucciso e che c'è l'altro sciamano che è uscito a restare sulla terra questo spirito è lui questo qui è amida dura e questo qui è il suo io 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 sakura vabbè stai andando un po troppo nel particolare non è quello dovremmo sconfiggere questo spirito cercando di levarlo esatto e ci sono tutta una serie di combattimenti di battaglie vero sono belli disegni ti sono piaciuti si i disegni sono belli dai questo è lo spirito maligno infatti si vede c'è una faccia un po insomma abbiamo recuperato il numero il numero 3 poi ragazzi questo qui questo qui marco ormai legge solo acquisti ma ma beh che vuol di manga sì no marco no invece invece che ti sta a leggere adesso marco che non è manga si sta leggendo zagor e se anche letto che altro e tex willer e mi sa fa una capatanta per recuperargli tutto zagor adesso voi capite è tutto che non è possibile ha solo il meglio legge ok però meglio shaman king o dragon ball nessuno te l'ha chiesto no la meglio shaman king o dragon ball a old emi e vogliamo stacqua una settimana insomma c'hai tempo tu metti di vivere vicino al computer allora dipende dal punto di vista se lo leggi per la centesima volta o se lo leggi la prima volta perché quando lo leggi la prima volta è super bello super bello poi quando leggi shaman king pure la prima volta è bellissimo perché mi ha fatto bene però dopo che non leggi 100 volte non ti non è che ti appassiona più tanto infatti ormai leggo tantissimo io leggo tantissimo cosa ormai dragon ball leggo più volte più volte più volte volumi che a un certo punto ormai so bene che cos'è quindi a un certo punto diciamo che in questo momento preferisco questo perché è la prima volta che non ecco ok quindi alla prima lettura è meglio dragon ball dopo la centesima iniziate a leggere altro questo è il messaggio di marco allora secondo c'è un commento vabbè dopo 100 numeri di one piece cosa vuoi che siano 700 e passa numeri di zago niente una passeggiata di salute mi ricordo quanto abbiamo preso tipo abbiamo preso metà libreria con tutti i one piece è sott'anni già ce ne abbiamo tanti invece anna ha voluto prendere pk il raggio nero una storia di artibani pastrovicchio a matite e chine monte duro ai colori e vi faccio vedi fermati dove fai fermati no state fermo con le origini di zago perché ma non c'entra niente perché ho letto pure quelle guardate che belli i disegni del pastro anche i colori sono molto molto proprio bello peccato qui c'è l'altro l'altro membro della della family che praticamente non se vuole fa vedere però io come sempre vi dico una cosa a me sto formato che ci sta cinque centimetri qua e cinque centrimi qua ma l'avrei fatto più piccolino è certo è certo certo anche se qualche tavola poi la fanno allargare eccetera però è evidente che non lo so non mi fa impazzire non mi fa impazzire tutto sto nero sopra e sotto però vabbè sto guarda il capello oltretutto ce l'hanno dato anche un prezzo fortemente scontato quindi siamo molto molto contenti poi appena ce la leggiamo 18 euro però noi l'abbiamo pagata 16 50 appena ce la leggiamo è un po rovinato si è un po rovinato appena ce la leggiamo vi faccio sapere come prego comunque secondo me ancora abbiamo parlato in shaman king basta adesso dobbiamo spacchettare non fanno vedere in camera così tutto potrebbero vedere ragazzi ieri abbiamo fatto visita al casino abbiamo fatto visita al stand per luca preferisci pk paperini più vecchia maniera no pk mi piace piace parecchio pk mi piace parecchio sinceramente anche perché sono come come dice marco dopo averlo letto nella centesima volta paperini che a un certo punto vuoi cercare anche qualcosa di diverso di diverso quindi siamo arrivati siamo arrivati allo stand della leviathan labs abbiamo fatto anche delle belle interviste che vedete questa sera nel merenda fumetti alle 18 e 30 e ci hanno dato qualche poster questo qui io sinceramente non so secondo voi a che cosa è ispirato secondo me ad akira non so a cosa sarà mai spero bellissimo bello anche questo qua bitter root e ce n'hanno dato mazza che carta bella pesante fatti bene sti poster e ce n'hanno dato anche un altro che invece non ho visto che ce l'hanno dato proprio all'improvviso a vietnam horror un altro un altro loro lavoro molto interessante poi che cosa è successo io ho fatto l'intervista e il l'intervistato che non vi voglio dire chi è perché voglio lasciare la suspense ma mi dice vabbè facciamo così scegli quello che vuoi e te lo porti ha detto no guardate facciamo così invece dammi tu qualcosa di interessante secondo te e io questo qua invece lo acquisto perché voglio dire siamo giornalisti non siamo a cattoni no non siamo a cattoni cioè quando se deve pagare una cosa se deve pagare appunto quando invece uno ne vuol parlare va bene anche se te la regalano quindi questo qua sinceramente gli ho detto lo voglio lo voglio prendere lo voglio prendere proprio anche per sostenere la casa editrice questo qua è un gran colpo per è un gran colpo per le vai a tan labs perché è un titolo image importato appunto in italia letterato e tutto il resto ne parliamo presto perché pare veramente tantissima roba tantissime cose belle poi però non volevo farlo a cattone ma alla fine l'ho fatto perché mi ha riempito di roba perché gli ho detto vabbè dammi qualcosa tu che vuoi spingere e quindi eccolo qui vietma vietnam horror sempre dalle vai a tan tutto in bianco e nero ma che bianco e nero ragazzi che carta allucinante tutti brossurati fatti veramente un gran bene poi andiamo avanti locust questo proprio non lo conosco non lo aprì in quel modo questo proprio non lo conosco per 16 euro sempre brossurato tutto quanto a colori argomenti sempre piuttosto piuttosto forti piuttosto forti e andiamo a leggercelo e vediamo che poi io avevo già fatto appunto un video sulle vai and labs nella quale dice nel quale dicevo che avevo recuperato un sacco di roba a 2 euro in digitale ed ero contento a locust volume 2 forse no questo qua volume 1 con il volume 2 simpatico forte e infine a infine questo qua questo qua me la veramente consigliato tantissimo giallo giallo 1 fatto arriva il primo numero di giallo una pura strisciante si muove tra le pagine terrificanti di questa rivista horror all'italiana addentrandosi nelle guerre del secolo passato in oscuri pozzi senza fine muovendosi nelle ombre di un collegio lordo di sangue arrivando nella tenebrosa ma purulenta che si nasconde tra le vie di piccoli borghi italiani a 7 euro è una vera e propria rivista di fumetti horror tutta quanta italiana tutta quanta disegnata in modi differenti ed alla fine ci sono anche delle rubriche come si usa appunto nelle riviste vediamo vediamo com'è addirittura qui c'è intervista barbara baraldi il colore della paura è interessante veramente interessante così abbiamo è interessante poi si legge si vede se è anche più di interessante però poi oggi no quanta roba poi oggi abbiamo fermati che stanno morendo i muscoli oggi abbiamo ricevuto questo bel pacchettino ma che cosa ci starà e che cosa c'è dentro non lo so so da chi viene ma non so da chi che cosa c'è dentro ea voglia per uscito il 2 ok ho spoilerato tutto arriva da salda press però non so che cosa mi hanno mandato è veramente pieno di cose che cosa è salda press salda press è una casa editrice era una battuta e non si è capito piano salda press è figo perché ti augura sempre buona lettura quando apri il pacchetto è proprio interessante facciamo così ops scusate allora andiamo per ordine non ve li voglio far vedere tutti insieme quindi primo nocterra di questo abbiamo già parlato perché ce l'avevo in digitale 20 euro cardona cartonatino di tipo salda press molto bello questo racconto ma ma vedi come sono le pagine perché poi perché è bello averci il digitale subito il pdf subito perché leggi la storia e ne puoi parlare ma poi se non vedi come è fatto se non vedi come è fatto e ti manca sempre qualcosa no come fai a consigliarlo proprio al cento per cento e qui ci sono questo qui è una buona buona qualità bello anche se proprio è proprio al limite sto formatino gli sta proprio strettissimo a questo a questo a questo volume bello però soliti giochetti di salda press in copertina che sono sempre fighi poi ragazzi ebbe ebbe questo lo sto leggendo anche questo qua in digitale isole di lorenzo palloni che del quale ve ne ho già parlato in una in una live che abbiamo fatto sempre qui arcade caffè sempre 19 e 90 è un racconto nato per la francia e poi è stato proprio di recentissimo di recentissimo importato qui in italia lorenzo palloni secondo me ha fatto l'isola dell'area del racconto sto dicendo che è stato fatto prima per la francia questo qui è stato riadattato completamente per l'italia dallo stesso palloni qualche mese fa assolutamente no bello tematiche molto interessanti molto molto bello questo l'ho letto quindi ve lo posso dire poi è arrivato frank cho e sabine rich fight girl un oddio che bello che forte sembra che non c'è niente in c'è scritto qui si vede si vede poco per leggerlo ce ne vuole però un bel effetto lo da 25 euro da salda press sempre portate che bello perché cartonati devono far così sennò non funzionano bene e vedremo vedremo come come è strutturato questo racconto di ciò belli disegni però non ho proprio idea dieci donne quattro sfide e una corona chi vince regna sull'impero ok quindi una sorta una sorta di amazzoni ovvio se chiama arcade caffè per un motivo gar tennis corans sudsuka sudsuka e miroslav mevra ma avrà dire mio come se dice come se leggono perché proprio non lo so mariori finnegan ladra temporale che cosa dice mariori finnegan viaggia nel tempo saltando dall'antico egitto all'epoca vichinga fino al big bang ai regimi totalitaristi del futuro per rubare qualunque cosa attire la sua attenzione le sue scorrimande però hanno testato il dipartimento della potenzia temporale che ora le dà la caccia attraverso i secoli aspetto recensione di hannis e vediamo perché cartennis è sempre molto complesso sempre molto molto complesso a il volume costa 24 e 90 veramente grosso e no vabbè no no vabbè no ragazzi qui qui stiamo veramente fuori di testa oh santo cielo fermati non si possono vedere queste cose oh santo cielo ci sarà da divertirsi con questo volume veramente ciao giovanni in questo ultimo tempo posso parlare delle origini di un lotto delle origini che hai letto sì alcune origini ah delle origini di zagor perché marco si è marco si è appassionato a zagor perché gli ho fatto leggere le origini zagor le origini soltanto non ce li ho ancora tutti perché mi manca il volume numero 5 quindi ho letto le prime 4 e quindi lui ha letto le prime 4 e ve ne vuol parlare perché sei appassionato a zagor anzi io vi direi di più io vorrei fare con se vi interessa un video proprio insieme a marco perché a me sta storia che i personaggi di bonelli sono solo per vecchi mi sembra tanto una nascemenza nata apposta per evitare di leggere belle cose perché vi posso dire che gli ho fatto leggere zagor le origini poi ha letto zagor più che è uscito adesso la storia di barbieri non mi ricordo il titolo tu te lo ricordi il titolo l'acqua che urla l'acqua che urla lo sta leggendo perché è bello lungo 192 pagine su tante tavole lo sta leggendo e sta piacendo anche quello e in più ha iniziato a leggere il text wheeler quindi noi siamo anche andati in fiera al teramo comics per recuperare il text wheeler ma non ci siamo riusciti perché non c'erano non abbiamo trovato nulla volevamo beccare la saga di Pinkerton Lady neanche quella siamo riusciti a beccare però devo dire che cosa? che è bello cioè o non spoilerà comunque queste immagini così a colore allora il colore è un po' tenue ma è fatto apposta così io ancora non lo leggo sono sincero però a te è piaciuto è un bel racconto per te sì allora che ti è piaciuto? vi dico non spoilerà la trama sì però se voi leggete il primo so già che il primo ciao cioè il primo di ogni saga almeno che le saghe non sono tipo rosa e fiori tipo Dragon Ball che no è che sia troppo rosa e fiori il primo è sempre la cosa più brutta infatti le cose di Zagor il primo delle origini che c'è che non va? che semplicemente è molto cruento ci sono molte cose non è che sia troppo bello il primo però se cominci a leggere anche il secondo e il terzo vabbè dopo un po' si appassiona perché questi numeri ripercorrono appunto le origini di Zagor come da testo e le origini di Zagor sono abbastanza cruente le origini della sua famiglia il peccato originale che lui credeva avesse fatto suo padre che poi non è così quindi per lui sono state tematiche abbastanza importanti rispetto a uno shonen qualsiasi capito? ti rendi conto che hai spoilerato tutto? lo sanno tutti com'è nato Zagor c'è da 60 anni Zagor è che semplicemente hai detto una cosa che io non sapevo cosa? che in realtà i peccati del padre alla fine attenzione alla fine cioè i peccati del padre alla fine non io non ho detto questo cioè questo qui si è rovinato un pochino mannaggia vabbè sono tutti quanti abbastanza vecchiotti ragazzi è stata è stata una bella secondo me Teramo Comics per tornare all'argomento principale oggi oggi pomeriggio no lascia perdere il primo di Tex Wheeler stati seduto oggi pomeriggio alle 18.30 ci sarà proprio il vlog e la cosa bella è che abbiamo fatto ho fatto abbiamo fatto pluralismi e status ho fatto delle domande a caverna secondo me che un sacco di gente gli voleva fare soprattutto del gruppo Telegram abbiamo parlato di di influence di influencer abbiamo parlato di influenza che hanno gli influencer abbiamo parlato di live del perché comportarsi in un certo modo nelle live cosa che poi approfondiremo questo è vero nell'intervista esclusiva che ci sarà fra un paio di giorni quindi dimmi aspetta dove devi tornare mariano food che ti dice aspetto la recensione già l'ho letto tranquillissimo ma quando lo facciamo quindi questo video appena appena possibile grazie è arrivato il caffettino ragazzi il caffettino per te adesso giriamo un po' noi ragazzi ci vediamo stasera appunto alle 18.30 ti ho detto quando lo facciamo con questo video che hai detto ma non lo so ma poi vediamo ma ora lo dobbiamo discutere in diretta quindi sul prossimo market caffè che faremo venerdì venerdì c'è il prossimo market caffè con me tutto il resto non ci venite nemmeno ragazzi grazie mille di aver visto e di essere stati con oddio stava fa un danno terribile stavo stavo catapultando il caffè contro il computer una cosa assurda grazie di essere stati qui con noi grazie di aver visto appunto questa questa mini live di arcade caffè noi ci vediamo stasera alle 18.30 mi raccomando supporto su quel video perché secondo me è importante e poi andiamo matakatsu manga e poi venerdì c'è matakatsu manga se c'è la corrente questa volta da 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 max noi niente facciamo buonelli se mitica buonelli se mitica domani domani facciamo un piccolo raidino se vi va di passare da kafkania andiamo da kaf che sta sempre online quando sto online io quindi mi fa piacere adesso sta facendo anche sta facendo anche dei disegni quindi può essere anche interessante come cosa noi ci vediamo stasera 18.30 su youtube ciao ciao belli ciao belli ciao